e bisogna andare un po' indietro negli anni per parlare dei miei inizi per quanto riguarda questa passione forte rivolta alle attività motorie in generale è un percorso un po strano perché non era previsto che io facessi le scienze motorie se la comunicazione è così importante quanti esami di comunicazione si danno a scienze motorie? aprire la testa su differenti tematiche e pormi tantissime domande perché il bello di fare ricerca scientifica è che in realtà i dubbi aumentano, non si colmano essere un motivatore vuol dire principalmente essere un esempio cioè io credo in quello che faccio, io credo in quello che dico perché lo faccio io io non so, la vita bisogna sapersela accarezzare, coccolarla, bisogna amarsi prima di amare gli altri benvenuti in un'altra grande puntata del talk scienze motorie.com oggi in compagnia di un grandissimo ospite René Cavilli, benvenuto René grazie mille, buongiorno, ciao a tutti René è un osteopata e un esperto in metodiche quanto biofisiche esatto è una cosa molto particolare, avremo modo di parlare, sono molto curioso e in questo spazio a René parliamo con professionisti esperti in ambito di movimento ok? e per scambiare informazioni, condividere, avere intuizioni su quello che ti ha portato a realizzare i risultati di quello che fai oggi con successo lo facciamo condividendo un'ottima tazza di tè e dalla prima domanda che è come iniziato il tuo percorso in ambito di scienze motorie ah beh, come molti ho iniziato l'ISEF perché all'epoca non esisteva ancora il corso di laurea in scienze motorie la cosa particolare è che iniziai l'ISEF, non mi vergogno di dirlo, in maniera molto leggera, nel senso appassionato di sport, io arrivo dal mondo del calcio, ho provato a fare il calciatore ma in me ero troppo scarso per poter effettivamente pensare di mangiarsi un giorno grazie a quello, mi iscrissi all'ISEF, il primo anno la feci in maniera molto blanda, ma ebbe la fortuna durante il secondo anno accademico di conoscere un docente che poi diventò la mia guida, il mio mentore, nonché un grandissimo amico nonché un professionista col quale collaboro tutt'oggi che si chiama dottor Luca De Hilda in quell'occasione, cioè quell'occasione fu molto particolare perché ricordo ancora che lui giovanissimo entrò, all'epoca non aveva ancora la cattedra, era un assistente del dottor Nicosia, ci fece la prima lezione incredibile, ricordo che iniziò a citare una moltitudine di muscoli, origini, inserzione, innervazione, vascularizzazione, funzione, noi rimanemmo tutti completamente scioccati. In me scattò qualcosa perché iniziai a dire voglio capirci qualcosina in più, la faccio breve, grazie a lui nacque in me una passione incredibile per tutto ciò che riguardò le scienze motorie, mi diede la possibilità di iniziare a studiare, di apprezzare il fatto di studiare, iniziai a spendere una moltitudine di denari in libri, divenne un'altra mia passione, e quindi iniziai il mio percorso di scienze motorie, o meglio ISEF all'epoca. Finiti i tre anni di ISEF volevo continuare a studiare, ma era il periodo in cui iniziava la riforma, quindi c'erano delle facoltà che avevano fatto delle convenzioni con delle facoltà, per esempio francesi, per poter fare il quarto anno. A me non sono mai piaciute troppo le vie di mezzo, cose del genere, quindi essendo io valdostano e avendo la fortuna di conoscere il francese da quando sono nato, mandai il mio curriculum universitario in diverse università francesi e decisi poi di proseguire il mio percorso di studi a Grenoble, quindi feci un anno a Grenoble, quindi un anno intero, non attraverso la convenzione, tant'è che loro mi accettarono come allievo con la particolarità di dover discutere la tesi in Italia, prima della fine dell'anno accademico in Francia, perché io avevo finito gli esami, ma ancora dovevo discutere la tesi, che fu la prima tesi sperimentale dell'ISEF di Torino, che stavo facendo con il dottor Luca De Hidda, che prese circa 8-10 mesi di lavoro. Quindi andai in Francia, feci la mia metrise, così si chiamava, con la specializzazione allenamento d'alto livello e indirizzo preparazione mentale dell'atleta, dopodiché tornai, feci due anni di specialità in kinesiologia preventiva ed educativa, in questo periodo dovevo fare anche il servizio militare, che avevo provato in tutte le maniere a non doverlo fare, visto che avevo già anche iniziato a lavorare, avevo iniziato a lavorare nelle palestre, avevo iniziato a lavorare come preparatore fisico in alcune società di calcio e dilettantistiche, dovevo fare servizio militare e mi venne l'idea di portare il mio curriculum da studente, ahimè, al centro atleti esercito, che era Courmayeur, il comandante della caserma accettò di avere un soldato di leva che di mestiere poteva fare il preparatore fisico, visto che era diplomato ISEF e laureato in Francia e così ebbi la fortuna di fare anche un anno servizio militare di esperienza con atleti che correvano in Coppa del Mondo e in Coppa Europa per quello che riguarda lo sci nordico. Finì il secondo anno di specialità in kinesiologia e iniziai poi a buttarmi nel mondo del lavoro, poi successivamente continuai a studiare, mi iscrissi osteopatia, quindi feci osteopatia che sono sei anni. Nel frattempo presi anche una specializzazione all'Università di Siena in metodiche quanto biofisiche di cui se vuoi poi andremo ad approfondire e ti spiegherò anche quali sono stati il mio percorso mentale che mi ha portato in tutti questi vari ambiti. Presi anche la specializzazione a Coverciano come preparatore atletico professionista di calcio. Ricordo una bellissima esperienza perché io ero il più giovane del corso, avevo 26 anni, quindi si partiva da 26 anni, prima non potevi neanche fare la domanda di iscrizione e abbi la fortuna di relazionarmi con delle persone che erano già nel mondo professionistico del calcio da diversi anni, quindi anche questa è stata un'esperienza molto carina, molto bella, fino ad arrivare ai giorni d'oggi dove mi occupo principalmente di riabilitazione, e quindi sia come osteopata e come kinesiologo, feci anche tre anni di posturologia, dimenticavo anche questo piccolo aneddoto, poi niente, adesso ho altri obiettivi per il futuro anche dal punto di vista accademico. Anche a livello internazionale ti sei mosso molto, a parte il fatto della Francia, la predisposizione a parlare una lingua? Sì, assolutamente sì, la mia esperienza in Francia mi ha permesso di aprire molto la naturalmente. È vero che conoscevo bene il francese, ma è anche vero che quando mi trovai effettivamente tutti i giorni in Francia un conto era all'università dove i professori parlavano un francese corretto, quindi riuscivo tranquillamente a capire tutto, ma quando poi mi trovavo con i miei compagni di corso che quindi parlavano un francese più normale, più largo si dice, avevo grosse difficoltà, quindi devi iniziare a metterti in gioco anche da un punto di vista umano, personale, tutti i giorni e questa esperienza mi ha portato poi molti anni successivi a decidere di fare un'ulteriore esperienza all'estero, io ho vissuto per quattro anni e mezzo a Dubai, quindi negli Emirati Arabi Uniti e quando decisi di trasferirmi a Dubai fu un bel salto, ho deciso veramente di uscire dalla mia comfort zone, come si suol dire, perché io andai a Dubai in un paese islamico dove la lingua utilizzata era l'inglese e io ahimè non parlavo una parola di inglese, zero, assoluto. Ricordo uno dei primi meeting, prima ancora di decidere di trasferirmi, avevo memorizzato come un mantra il nice to meet you, per farti capire quel livello in cui io ero. Feci questa esperienza di quattro anni e mezzo che mi arricchì tantissimo, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano, poi per tutta una serie di vicissitudini tra le quali anche personali ho deciso di rientrare, adesso sono tre mesi che sono di nuovo in Italia, quindi mi sono riorganizzato la mia attività professionale in Italia ed eccomi qua a condividere con te le mie esperienze. Con molto veramente entusiasmo perché solo sentendo queste esperienze me ne vuoi farti un sacco di domande, conoscere. Siamo qua. Infatti allora partiamo da questo discorso, tu sei passato dalle scienze motori all'osteopatia, hai detto alla postulogia e poi l'osteopatia, quanto è stato significativo il percorso delle scienze motori per approcciare all'osteopatia? Fondamentale, fondamentale. Cercando di creare una cronologia di ragionamento che mi ha portato poi a fare le varie esperienze, le scienze motori sono state fondamentali. Innanzitutto grazie alle scienze motori mi sono avvicinato alle attività sportive come preparatore fisico. Ricordo ancora la tesi che feci a Coverciano che fu una tesi che tra l'altro era stata pubblicata sul settore tecnico, la rivista specializzata a Coverciano, l'oggetto della tesi era l'esame e la valutazione posturale nel calcio. Perché? Perché già all'epoca io avevo ben chiaro un mio concetto che un infortunio che sia muscolare o articolare non è mai un caso. Spesso e volentieri sento ancora oggi persone di un certo spessore che lavorano in questi mondi ad altissimo livello dire quest'anno la squadra o l'atleta è stato molto sfortunato o la squadra è stata molto sfortunata perché ha subito diversi infortuni muscolari. No, dal mio punto di vista no, non è sfortuna. Quindi c'era la domanda, come mai avvengono queste cose? Quando ti fai una domanda e sei appassionato del tuo mestiere vuoi avere delle risposte e quindi inizi ad aprire quelle che sono le tue competenze, inizi ad avvicinarti ad altre discipline. Ecco che la prima alla quale mi avvicinai fu la kinesiologia preventiva e rieducativa. Quindi utilizzare l'aspetto motorio per poter programmare dei lavori di prevenzione all'infortunio, possa essere muscolare o articolare, e poi per poter riportare l'atleta ad avere un grado di performance elevato dopo un aspetto infortunistico. Successivamente, premessa, quando poi ci si avvicina ad altre discipline è importante secondo me non fermarsi, perché ricordo ancora quando feci la kinesiologia mi senti ripetere continuamente con la kinesiologia curi tutto. Non è possibile, se non esisterebbero tutte queste altre figure professionali. Andai oltre grazie alla guida del mio mentore, questa è sempre una grossa fortuna, riuscire a individuare dal mio punto di vista nel proprio percorso professionale di crescita, una o due figure di riferimento più grandi di te, che hanno già fatto un percorso prima di te e che possibilmente possono aver fatto esperienze differenziate. Quindi mi avvicinai alla posturologia. Per quale motivo? Perché già all'epoca mi rendevo conto che sì, l'aspetto motorio è fondamentale, ma l'aspetto motorio, chiamiamola funzione, è governato da un qualcosa che si chiama struttura. Tant'è che poi scoprì negli anni successivi quando studiavi osteopatia come la struttura governa la funzione, ma la funzione nel tempo modifica la struttura. Cosa significa struttura? Struttura non è nient'altro che la forma. E la forma di un essere vivente, prendiamo un atleta, ha due componenti, la quantità e la qualità. La quantità è molto semplice, una persona che è più alta, più bassa, con un peso maggiore rispetto a un'altra persona che ha un peso minore, quindi cambia la quantità di forma. La qualità è come questa struttura si organizza per occupare lo spazio, quindi come questa struttura è in grado di ovviare, per esempio, alla forza di gravità. In base alla struttura tu avrai un certo tipo di funzione, molto semplice. Un atleta con un baricentro alto avrà delle caratteristiche diverse rispetto ad un atleta con un baricentro basso. Tutte delle competenze che già avevamo acquisito nelle scienze motorie. E quindi poi si riesce a fare, a chiudere il cerchio. Allora nella posturologia si inizia a capire come, si inizia a studiare quella che è la forma. Quindi dalla forma si possono intravedere tutta una serie di caratteristiche che possano predisporre, in questo caso l'atleta, ad avere degli infortuni. Quindi significa che studiando la forma io saprò che da un punto di vista della programmazione in quanto specialista dell'attività motoria dovrò prevedere alcuni esercizi specifici piuttosto che altri. Stessa cosa in fase rieducativa, posto infortunio. Perfetto. E quindi come mai poi mi sono avvicinato anche all'osteopatia? Mi sono avvicinato all'osteopatia perché nel mio percorso apri uno studio come kinesiologo e mi rendevo conto che mi mancavano delle competenze, che potessero essere per esempio manuali. Quindi decisi di scrivermi osteopatia e lì mi si aprì un altro mondo. E anche lì ahimè ricordo le prime lezioni mi dissero il muscolo è stupido. Con l'osteopatia curi tutto. Per me era assurdo. Cioè io avevo ottenuto grossissimi risultati come me e tutti i miei colleghi che arrivavano dalle scienze motorie facendo attività fisica, ottenendo dei risultati incredibili e vieni mi dici il muscolo è stupido. No. Quindi come io non credo, passatemi il termine talebano, al talebano delle scienze motorie, non credo al talebano dell'osteopatia, non credo al talebano della posturologia. Però in osteopatia c'è stata un'altra esperienza fantastica, che l'osteopatia è aperta a tutte le figure sanitarie e anche alle scienze motorie. Quindi avevo come colleghi, come compagni, chi arrivava dalle scienze motorie, chi arrivava dalla fisioterapia, chi arrivava dalla medicina e togliendo le caratteristiche personali a livello generale mi sono reso conto, ed è una costante nella relazione che ho avuto anche con altri colleghi quando ci confrontavamo su questo aspetto, che chi arrivava dalle scienze motorie aveva una visione di insieme decisamente superiore. Perché? Perché fondamentalmente quando uno studia le scienze motorie, studia le tecniche sia per valutare e sia per somministrare degli atti motori, per far sì che l'atleta possa essere in grande performance, portare l'atleta in condizione. Tradotto che cosa vuol dire? Ottimizzare la salute dell'atleta. Un atleta per poter essere in performance, per poter avere delle chance di espletare la massima espressione fisica, deve essere innanzitutto in grande salute. E guarda caso è una bilancia, salute e malattia, quindi entro in un altro campo ancora, salute e malattia sono due situazioni opposte che possono essere paragonate a una bilancia. Più sei in salute, prendiamo due piatti della bilancia e mettiamo dei sassolini, più metti i sassolini dalla salute, quindi la bilancia va in disequilibrio verso la salute e più hai difficoltà a contrarre malattie. Il sistema unitario lavora in maniera molto più importante, ci sono tutta una serie di caratteristiche che fanno sì che più sei in salute, più sei performante e più hai meno possibilità di contrarre malattie. Più sei malato, più la tua salute diminuisce, la tua performance diminuisce. Quindi mi si è aperto un mondo, perché veramente c'è la possibilità e bisognerebbe lavorare assieme agli specialisti che lavorano contro la malattia. Perché per affrontare la malattia abbiamo due armi, che sono quelle praticamente del mondo medico allopatico, che sono specializzati nello studio della malattia e combattere la malattia, ma assieme ci deve essere lo specialista della salute che deve lavorare in tandem per incrementare la salute. Bene, chi arriva dalle scienze motorie ha delle competenze incredibili per quello che riguarda la salute e possono poi aprirsi varie specialità sempre nel mondo della salute, come è l'osteopatia per esempio, che ti permettono di avere un visione di insieme incredibilmente efficace. Quindi io ringrazio e continuo a sostenere fortemente le scienze motorie, tant'è che spesso e volentieri si leggono anche degli articoli, fare attività fisica fa bene per il diabete, fa bene per questo, fa bene per quello, perfetto, ma cerchiamo di capire il perché. E quando si va nel dunque ci si rende davvero conto quanto le attività motorie, attenzione, chi studia scienze motorie non studia solo l'attività fisica, studia alimentazione, studia la parte mentale. E nel momento in cui si approfondisce un discorso salute, veramente si comprende quanto mente, spirito e corpo siano inscindibili, fanno parte di un triangolo equilatero che deve essere in equilibrio. Quindi assolutamente le scienze motorie è stata la mia fortuna. Se fossi partito per esempio da un'altra disciplina, prendiamo per esempio un corso di laurea in fisioterapia, è un corso di laurea che ti dà grandissime competenze sulla gestione di patologie muscoloscheletriche o neurologiche, studi benissimo quello che ha la patologia, come interagire su quella patologia, molto meno quello che riguarda la salute, tant'è che i colleghi che escono dai corsi di laurea in fisioterapia hanno delle difficoltà a impostare un programma riabilitativo motorio, perché non studiano le scienze motorie. Ecco, l'importanza dell'integrazione anche da quel punto di vista lì. In ambito di osteopatia ci sono tante proposte, visto che ancora oggi c'è un quadro piuttosto vago, purtroppo da un punto di vista legislativo, cioè dell'osteopata in Italia, per cui esistono molto proposte formative e c'è una grossa differenza. Tu ne parli in maniera molto chiara e si trasmette moltissimo il significato che ha l'osteopatia per te, il percorso che hai fatto. Hai parlato di Luca De Ida come tuo mentore, come ti sei formato in osteopatia, cioè qual è stato il tuo percorso, qual è stato l'istituto presso il quale sei formato? Allora, il mio percorso è iniziato nella scuola Siotema di Torino, scelsi la Siotema perché Luca De Ida era un docente Siotema. Poi mi trovai molto bene, conclusi il mio percorso lì, dopodiché negli anni il mio mentore aprì il suo istituto, che si chiama INFROP, Istituto Nazionale di Formazione e Ricerca in Osteopatia e Postrologia. Ebbe la fortuna di ricevere la sua chiamata, quindi oggi io faccio parte del parco docenti della INFROP e proprio per farti capire quello che è il concetto osteopatico, di solito io sono di quelli che fa le prime lezioni introduttive agli allievi del primo anno e ricordo una lezione dove io iniziai e dissi ai ragazzi ricordatevi che con l'osteopatia non si cura nulla. Allora tutta questa gente che mi guardava e diceva come? Io ho deciso di intraprendere un percorso di sei anni che è anche un bel dispendio economico, non solo dal punto di vista economico ma anche energetico, di tempo in sei anni cambiano tantissime cose e tu mi vieni a dire che con l'osteopatia non si cura, no, perché nel momento in cui io ti dico che con l'osteopatia si curano la lombalgia, la cervicalgia, vuol dire che facciamo il focus sulla problematica, sulla malattia, non è di nostra competenza, quello è il mondo medico allopatico. L'osteopatia infatti osteopath non è osteopathos, quindi patologia dell'osso, ma è osteopath, percorso di salute attraverso la chiave dell'osso, sistema muscolo scheletro. Oggi in inglese lo parli. Bene, path. Esattamente, però spesso e volentieri è stato tradotto male perché è stato tradotto con osteopathos, no, è tutta un'altra cosa. Quindi nel momento in cui ci si avvicina all'osteopatia si apre veramente un mondo ed è fantastico vedere come gli allievi che arrivano dalla fisioterapia o dalla medicina rimangono veramente con gli occhi spalancati, con una gran voglia di capire tutto il mondo della salute. Spesso e volentieri, faccio un altro esempio, mi spingo un pochettino e so che posso essere magari criticato in quello che io sto dicendo, perché è un'esperienza che sto vivendo dal punto di vista personale. Spesso e volentieri nel mondo medico si propongono delle terapie molto importanti, molto strong, anche diciamo che hanno tutta una serie di effetti collaterali importanti. E ci mancherebbe altro. Non è che sto criticando quello anche perché non è di mia competenza. La domanda che feci a un medico col quale mi sono confrontato poche settimane fa fu questa. Il medico mi disse, vedi in questa persona proponiamo questo protocollo perché come vedi è in grande salute, quindi è in grado di poter supportare questo tipo di terapia. E la mia domanda è stata, come fate a dire quanto è in salute? Ah ma si vede! Eh no! Esistono delle figure professionali con le quali potreste davvero collaborare, che nascono sulla parametrizzazione della salute e alcuni di queste sono i laureati in scienze motorie, che assieme per esempio, mi viene in mente, ai medici dello sport potrebbero impostare una batteria di valutazioni per capire la salute di quella persona e insieme poi alla figura medico allopatica creare dei protocolli specifici alla persona e non più alla malattia. Quindi tenere assolutamente sì in considerazione la malattia, combattere la malattia che però è un elemento di una persona che ha un suo corpo, una sua mente, un suo spirito, un suo stato sociale e quant'altro. Quindi io sono sicuro che nel futuro questo, permettimi questa sicurezza mia forse molto presuntuosa, però io sono sicuro che in un futuro ci sarà veramente la possibilità di far questo perché sempre di più ci si sta spostando il focus, mettendo al centro del mondo la persona e la persona è un sistema aperto e chiuso innanzitutto, non è un sistema chiuso perché è anche aperto a volte, perché nel momento in cui noi ci alimentiamo introduciamo dall'esterno un qualcosa. Nel momento in cui facciamo, passami il termine, fuoriuscire sostanze di scarto, anche lì siamo aperti verso l'esterno, tutta la sfera emotiva è aperta verso l'esterno, tutta la parte frequenziale, ecco perché poi ho fatto anche la parte di biofisica, è aperta al mondo esterno, quindi anche nello studio scientifico di determinate passami il termine patologie, è importante studiare la patologia, ma poi è altrettanto importante inserire la patologia in questo sistema. Abbiamo più di 50 trilioni di cellule che tra loro si organizzano in una forma, quindi struttura, che governa una funzione e se io scienze motorie, per esempio con l'atleta, visto che stiamo parlando di scienze motorie utilizzo tutta la mia batteria di test per vedere il livello prestativo dell'atleta che cos'è che sto valutando? Sto valutando la funzione, ma la funzione è governata dalla struttura nel momento in cui io somministro delle sedute allenanti, degli stimoli allenanti io sto mandando delle informazioni al sistema centrale che modificherà il progetto, che andrà a modificare la struttura e che quindi alla fine modificherà la funzione che è quello che io vado a registrare. L'atleta è più o meno performante, quindi il nostro cardine come scienze motorie è fondamentale ma importante o fare un percorso più a 360 gradi oppure se ci si vuole iper specializzare, creare un team di lavoro in cui credo tantissimo ma non credo personalmente, questa è la mia opinione personale, in un team di lavoro di iper specializzati che però non hanno la visione d'insieme, perché manca l'integrazione. Mi vengono in mente le parole Organizzazione Mondiale della Sanità che dice il benessere e la salute non è l'assenza di malattia. Molto spesso questo è detto ma non poi ciò che si va a fare sul campo, perché è proprio così, la medicina si limita a dire non è malato e quindi sta bene. No, quello che dicevi è proprio questa coerenza con il concetto di salute e benessere e deve essere conosciuto, studiato, condiviso da tante figure che lavorano nel mondo della salute che non sono soltanto quelli della medicina allopatica, come giustamente dicevi tu. Quindi pienamente accordo. Sul discorso di osteopatia ho fatto questa domanda perché esistono più di 40 scuole che continuano a nascere moltissimi istituti o pseudo istituti in Italia, ma in realtà non sono molti quelli che veramente danno una preparazione completa. Ci sono ottimi istituti in Italia e ce ne sono tanti per carità, però in una offerta formativa così ampia è bene individuare quelli che possono essere più efficaci veramente, proprio perché si va a investire tanto denaro, si va a investire tanti anni di vita e non è uno scherzo. Assolutamente e anche lì quando presento l'istituto per il quale lavoro a ipotetici futuri allievi faccio sempre una distinzione tra insegnare ed educare. Per insegnare è sufficiente avere delle ottime competenze da un punto di vista tecnico-teorico-pratico e avere le capacità di trasmissione. Per poter educare è un'altra cosa, devi avere tutte queste competenze ma devi vivere, devi essere quello che tu stai trasmettendo. E uno mi dice chi se ne frega io vado lì per imparare, non per essere educato. Non è proprio così perché nel momento in cui tu vuoi intervenire nella salute, devi sapere che devi avere delle competenze, ma un livello di trasmissione molto molto importante è quello energetico, frequenziale, empatico, chiamalo come vuoi. Quindi hai bisogno di un percorso. Questo percorso ha bisogno di tempo perché devi iniziare a scardinare determinate credenze, devi iniziare ad entrare non solo da un punto di vista teorico-pratico, ma da un punto di vista vero. Il bambino com'è che apprende? Per imitazione. E l'imitazione è quella l'aspetto più importante educativo, perché un genitore che dice al bambino usa bene le forchette, le posate, la forchetta e il coltello e poi il genitore mangia con le mani, il bambino mangerà con le mani, anche se gli hai detto determinate cose e spiegato in maniera perfetta. E quello perché? Perché non ci sono ancora tutte le sovrastrutture mentali. Noi più andiamo là con gli anni e più siamo stati portati ad utilizzare delle tecniche di apprendimento logiche, dimenticandoci tutto l'aspetto inconscio, dimenticandoci tutto l'aspetto imitativo. E oggi fortunatamente grazie alle neuroscienze che negli ultimi vent'anni hanno fatto passi da gigante, tutte queste competenze le abbiamo. Quindi nel momento in cui tu fai un percorso così importante di sei anni, diventa fondamentale quello che l'istituto in cui decidi di andare ad apprendere queste competenze. E un conto è apprendere delle competenze, un conto è apprendere uno stile di vita. E se stai parlando di qualcosa di salute, capisci quanto diventa importante quell'aspetto. Non solo, l'istituto per l'infrop di Luca De Idda e della dottoressa Emiliana Maddaloni che è sua moglie, tra l'altro anche lei tre lauree, quindi non è che stiamo parlando di persone che hanno studiato poco. Proprio per questa visione c'è tutta la parte di ricerca. Abbiamo il fisico che viene a parlare di fisica quantistica applicata, metodiche quanto biofisiche. Perché? Perché se noi sappiamo che la struttura governa la funzione, ma la struttura, com'è che è nata sta struttura? Non è che gli atomi decidono di organizzarsi secondo una struttura, passami il termine, così, perché non sanno che cosa fare. Casuale. Casuale. L'esempio che io faccio sempre quando faccio lezione è questo. Io sono un muratore e mi trovo davanti una vagonata di mattoni, che sono l'elemento minimo della materia e devo decidere che fare. Non lo so, perché mi manca un progetto. Quindi ci sarà qualcuno che avrà avuto un'idea, quindi decidere di fare un muro o un ponte, e uso questo esempio molto classico per un bel motivo, il muro divide, il ponte collega. Quindi sono due aspetti completamente diversi. Quindi il progettista ha un'idea, decido di fare un ponte oppure un muro, deve creare un progetto, io muratore riceverò un progetto e in base al progetto organizzerò la materia secondo una forma, diventerà un muro oppure un ponte. È facile capire quanto il muro ha una funzione di divisione e il ponte una funzione di collegamento. Ma tutto nasce da un progetto, quindi anche da un punto di vista osteopatico, per come spesso viene portata a conoscenza l'osteopatia, struttura governa la funzione, benissimo, ma mi manca il pezzo prima. Che cos'è che ha organizzato la struttura? Da dove arriva questo progetto? E quindi ci sono tutta una serie di elementi che vengono tranquillamente tradotti in stile di vita. Che cos'è lo stile di vita? Psicologico, quindi mentale, spirituale, alimentare, attività motoria, frequenze elettromagnetiche e tutto quello che vogliamo mettere dentro fa parte dello stile di vita che creerà un progetto, che organizzerà la materia con una certa struttura, che ti darà una funzione e quella funzione nel tempo andrà a modificare la struttura. Come? Perché sono degli stimoli che entreranno nel nuovo progetto e a cascata formeranno tutto quanto. Tanti stimoli per riflettere. Mi capita molto spesso di parlare di questo, la forma, la struttura. Noi siamo così abituati a vederci, a piacerci umanamente. Abbiamo un istinto che guida anche questo tipo di interesse. Ma la nostra struttura è funzionale all'habitat in cui viviamo. Le narici, gli occhi, gli orecchi, le mani, tutto quello che ci rappresenta ha una funzione e una struttura che si è modellata per stare qui. Probabilmente visti dagli occhi dell'alieno, che si prende sempre come esempio, potremmo essere veramente soggetti strani. Una forma strana, si muovono in maniera strana, pensano cose strane. C'è sempre una dinamica che porta alla realizzazione, alla concretizzazione della struttura. E ragionare senza preconcetti, ma con una logica che guidi, perché quel ponte, il muratore, lo costruirà in un'unica forma, altrimenti i mattoni cadranno. Quindi ci sarà sempre da seguire una legge fisica, perché c'è una forza gravità e via dicendo, che porterà a quella forma, quella struttura. Quindi capisco pienamente, condivido. È sempre uno stimolo per riflettere a tutto quello che facciamo, perché questo ragionamento lo puoi applicare a tutto quello che stai facendo. Qualsiasi percorso che stai intraprendendo, relazione, ragionamento, veramente è omnipresente ovunque. È un ragionamento che può essere molto utile in qualsiasi contesto della vita. Assolutamente, sì. Quindi credo che anche nella scelta di un percorso professionale, che un dottor di scienza motoria, ritornando al nostro argomento, deve intraprendere, se è acquisito o è interessato ad acquisire una logica di pensiero che lo porti a conoscere. Hai detto una cosa molto interessante prima che è quella di, bisogna cominciare a ridurre i preconcetti, le credenze che c'erano prima. Perché quando ti approcci all'osteopatia ti tocca tornare indietro e cancellare quelle che erano le tue certezze, perché non lo sono. Ed è incredibile come in ogni ambito c'è questo. Perché tu hai vissuto dalla kinesiologia, passando all'osteopatia, confrontandoti con la medicina, e ognuno dice una cosa diversa. Poi per carità, possono esserci differenti approcci e trovare una soluzione a un determinato problema. Però ognuno di questi approcci deve andare a limare certe certezze, oppure proprio a disintegrarle. Sì, sì. Poi dal mio punto di vista, proprio per scardinare le credenze, già è un gran bel lavoro scardinare le credenze, e poi fare molta attenzione a non scendere mai a conclusioni. Perché quello che si verifica in quel momento, si è verificato in quel momento, in quel contesto, con quelle caratteristiche. Ripeto, siamo 50 trilioni di cellule che tra loro comunicano in un ambiente aperto e anche chiuso. Quindi diventa molto importante darsi dei paletti più da un punto di vista concettuale, più da un punto di vista procedurale, che non conclusivi. Perché ci si rende conto, più si va avanti, più si va avanti anche solo a studiare. Io ricordo i primi testi che studiavo, non so, faccio un esempio, si studia il primo libro su allenamento della forza, prima abbiamo avuto il professor Manno, quindi prima allenamento della forza. Perfetto. Si legge un testo, due testi, si è convinti di essere cassaforte di tutte le informazioni sulla forza. Poi si inizia ad arrivare a 30, 40, 50 testi e ci si rende conto di non capire più nulla. Quindi che cosa significa? Che c'è grande confusione? No, tutt'altro. Sì, ci sono tante variabili. Quindi è importante riuscire ad ampliare il più possibile le proprie conoscenze per capire in quel contesto specifico qual è la soluzione più probabile, migliore. Perché ahimè, la certezza non esiste. Può esistere in laboratorio, in un vetrino, dove tu crei una reazione tra due cellule, tra due sostanze. Lì sì, ma poi lo devi mettere in un macrosistema. 50 trilioni di cellule in un sistema un po' aperto e un po' chiuso. Ecco perché, per esempio, per quello che riguarda la medicina, è una grandissima arte medica, favolosa. Meno male che esiste, sta continuando a crescere perché ci sta dando dei risultati incredibili. Da lì a parlare di scienza medica, andiamoci piano. Andiamoci piano perché tutti gli esperimenti scientifici che vanno fatti giustamente per fare un esperimento scientifico devi cercare di diminuire il più possibile il numero delle variabili. Altrimenti non riesci a creare una domanda di studio con una risposta di studio che deve essere ripetibile, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, ma quello poi tu lo devi introdurre in un sistema. Ecco perché anche per quello che riguarda le cure non hai una cura matematica, un dosaggio matematico. È un'arte, è un'arte. Mi spiace che spesso e volentieri ci siano delle propagande dove sembra che tutto ciò che non riguardi la medicina allopatica sia fuffa, maghi o quant'altro. La malattia è di competenza medico allopatica. Assolutamente sì. Ma noi lavoriamo sulla salute. Assolutamente. E spesso e volentieri, e io collaboro con tanti medici, soprattutto ortopedici, perché lavorando nel settore riabilitativo si ha a che fare molto con gli ortopedici. E la cosa bella è che mi rendo conto che più passano gli anni e più c'è questa relazione. Prima era molto più complessa. Adesso c'è sempre di più relazione. Un po' perché noi riusciamo a portare delle evidenze sempre maggiori. Un po' perché anche il mondo medico allopatico si sta rendendo conto di quanto sia importante la nostra figura e quindi anche loro si stanno avvicinando da un punto di vista prettamente mentale e psicologico a collaborare assieme a noi. Sai, potremmo approfondire moltissimo questo argomento perché ci sono degli interessi enormi dietro a tutto ciò. In qualità di dottori scienze motori, lavorando moltissimo sulla prevenzione, possiamo semplificarlo dicendo oltretutto che la medicina è efficace nel 30% dei casi. Nel 70% dei casi la medicina non riesce a interferire. Per cui è necessaria una prevenzione, è necessario acquisire delle regole di vita proprio alla base, all'inizio della vita. Lavorare sul progetto. Sul progetto. Perché nonostante il mondo stia andando nell'era della medicalizzazione, dove esiste dottor house, dove esistono pillole magiche, la realtà non è questa. Da lì, ripeto, ci sono degli interessi economici molto importanti per cui è molto più comodo curare le persone con le medicine più che prevenire lo stato di salute. Questo lo vediamo poi facendo analisi anche tipo quantitativo economico, ma non solo a livello nazionale, lo potremmo fare sull'Italia, ma lo potremmo vedere anche a livello internazionale. Quindi come vediamo l'argomento potrebbe essere approfondito moltissimo. Mi piace molto il concetto di lavorare sulla salute. Io stesso per anni, e per me è stato proprio l'origine, la passione del lavoro sulle scienze motorie, cioè il lavoro dallo stato di salute della persona per andare a migliorarlo. Ho sempre pensato a quello. Mentre ancora oggi, quando si pensa a salute, si pensa sempre alla medicina che va a recuperare uno stato di salute. Ma se recuperare lo stato di salute va da meno 30 a 0, da 0 a 70, a 100, a 1000, c'è tantissimo a fare. Assolutamente, sì, ma per noi è molto facile, per noi che riandano alle scienze motorie, è molto facile capire quel concetto. Ricordo, parlavo un paio di mesi fa con una persona che mi diceva, sì, ma che cos'è la salute? Come me la quantifichi e la salute? È il livello di prestazione di una persona. Per noi è molto semplice perché lavorando con gli atleti ragioniamo sul livello prestativo, quindi quanto è in forma. Ci sono tutta una batteria di test che noi somministriamo agli atleti per capire il suo livello di performance di oggi, vogliamo portarlo lì, lo seguiamo, vediamo quando è più performante, ma tradotto è quanto è più o meno in salute. Perché se rimaniamo in ambito naturale, quindi senza supporti chimici che ti portano prestati, l'atleta avrà il top di performance nel momento in cui è nel top della sua salute, quindi grazie al suo bagaglio genetico, biologico riesce a esprimere la massima funzione. È la stessa cosa una persona non atleta, però noi vediamo la prestazione solo nell'atleta. No, il manager può essere prestativo, come la donna di casa, come il pensionato, come il ragazzino, è sempre un livello di performance personale, che poi può essere portata in ambito sportivo, in ambito manageriale, in ambito professionale, in ambito familiare, ma sempre quello è. Quindi quando si parla di salute che cos'è? Per me è il livello di performance di quella persona. La quanto biofisica, ok, in tutto questo, l'origine, qual è il tuo lavoro nel quotidiano? Allora, tutta la parte di fisica quantistica applicata nasce da una curiosità. L'aneddoto fu che ci fu un docente in un corso di postrologia che fece diversi anni fa, si parla di 12 anni fa, che così l'aveva buttata lì che esistevano dei macchinari che schiacciando i pulsanti curavano le persone. Figurati, è entrata di qua, è uscita di là, perché dico questo, ho una grossa stima per lui, ma mi sa che si è dato all'alcolismo. Però sono un curioso, quindi ho iniziato a cercare su web, ho trovato delle informazioni. Fatto sta, chiamai il distributore di questo sistema, che è proprio un macchinario, un medical device, proprio un macchinario che utilizza i principi di fisica quantistica, lo chiamai per capirne di più e feci da cavia. Quindi andai da lui, non gli dissi quello che avevo, avevo dei sintomi, all'epoca soffrivo di un riflusso gastroesofagico cronico. Lui attraverso questo sistema individuò un problema a livello del sistema digerente, mi chiese se avevo dei problemi di stomaco, esofago, non dissi nulla. Mi trattò, fatto stacche e mi disse di richiamarlo nel giro di 5-10 giorni per avere un feedback. Io il giorno dopo non avevo più nulla. Due giorni dopo non avevo più nulla. Zero. Poi dico, eh, chicco, non mi freghi, io aspetto ancora un po', la faccio breve. Dopo un mese lo chiamai, giustamente questa persona addirittura mi sgridò dicendomi io aspettavo almeno un feedback a parte tua, non l'ho neanche fatto finire, ho detto la compro, non sapevo neanche quanto costasse. Comprai il sistema, non lo utilizzai con altre persone per un anno e mezzo, quindi io per un anno e mezzo iniziai ad approfondire tutta la parte teorica, la parte pratica, amici, parenti, tutte le persone vicino a te iniziai a testarlo fino a che decisi di iniziare ad utilizzarlo anche con altre persone. Si chiama biorisonanza, quindi è un sistema che ha la capacità di fare una valutazione frequenziale del sistema uomo, mettendo in risonanza anche diversi tipi di tessuti e poter fare anche somministrazione frequenziale, quindi di campi elettromagnetici per andare a modificare quelle che sono le funzioni. Rispetto a quello che abbiamo detto prima, che cosa fa il sistema? Registra frequenze elettromagnetiche e le frequenze elettromagnetiche che vengono risomministrate entrano nel progetto, quindi dal progetto poi si cambia la struttura, si cambia la funzione e quant'altro. Ebbi la fortuna nel 2007 di partecipare a questo corso di perfezionamento dell'Università di Siena, dove acquisì tutte le competenze teoriche e mi si aprì un mondo. Quindi approfondì tutta la parte di fisica quantistica, applicata a quello che è il mio settore, divenne una passione perché capì tantissime, 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 tantissime cose. Il fatto di credere veramente in un qualcosa. Oggi abbiamo il supporto teorico scientifico che ci possa dimostrare come, che è la differenza tra mente conscia e inconscia, quanto è importante la mente, soprattutto inconscia. Quindi tutti questi aspetti mi hanno fatto veramente scardinare una valangata di credenze e oggi lo abbino in un mio percorso, tant'è che sto ultimando un progetto mio personale appena rientrato in Italia, da due mesi e mezzo mi sono già rimesso al lavoro molto bene, un progetto personale di promozione della salute. La prima cosa è iniziare a parlare di salute, iniziare a fare delle serate, di promuovere e promulgare quello che è il concetto di salute a 360 gradi dove si parla anche di fisica quantistica, quindi particellare, di quello che sono tutte le interazioni elettromagnetiche a cui noi siamo sottoposti tutti i giorni, come intervengono, come interagiscono, come abbinarlo nella seduta di tutti i giorni. È carino, sai come cosa? Sì, sì, molto interessante, curiosisce moltissimo e penso anch'io che sia un ambito in grande fermento, grande sviluppo, sempre più scientifico. Sì, da un punto di vista fisico. Da un punto di vista fisico, infatti ho il piacere di condividere questo tipo di argomenti con un amico che si occupa di fisica, un docente universitario, e quello che per molti sembra quasi fantascienza, invece ha proprio una corrispondenza fisica. Assolutamente sì. I quanti hanno una corrispondenza fisica molto chiara e lui me ne parla in maniera molto concreta. Per altre persone ancora oggi è una cosa troppo distante, soprattutto quando si abbina la parte medica. e ho già individuato che chi è più l'ingimirante sta cominciando a integrare le cose, fino a trovare casi di professionisti di altissimo livello che parlano di dubbi elettronici quando parlano anche di organi stessi e quindi vanno a curarli in quel modo lì. Assolutamente sì. Anche perché gli atomi che tra loro si organizzano per creare una molecola, le molecole creano per esempio le cellule che creano i tessuti o un organo o quant'altro, non è che gli atomi decidono di organizzarsi in una certa maniera così a caso, esiste un progetto. Questo progetto a oggi è tendenzialmente elettromagnetico. Quindi vuol dire che c'è una parte, un'energia informativa che informa la materia su come organizzarsi, logicamente in base a un progetto e quindi in base all'organizzazione si ha una struttura che si avrà una funzione. E noi abbiamo, a parte un'antenna, ma soprattutto abbiamo un emettitore all'interno della nostra scatola cranica, che è l'area limbica, quindi parte inconscia, memoria implicita, che emette 24 ore al giorno informazioni elettromagnetiche, che sono le emozioni. Quindi quanto è importante l'aspetto mentale, ancora oggi stiamo a discutere se conta o non conta l'aspetto mentale? Noi abbiamo un emettitore instancabile, che anche quando dormiamo, anche quando facciamo qualsiasi cosa, continua a emettere informazioni elettromagnetiche, che diranno alla materia come organizzarsi, che quindi darà un certo tipo di struttura biologica, che darà un certo tipo di funzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è assurdo che nel 2016 ancora ogni tanto si senta dire che l'aspetto mentale o non conta, oppure sì sì, conta, ma come? Iniziamo a contarlo, cioè iniziamo a valutarlo, iniziamo a capire come interagire sull'aspetto mentale. Come mi è capitato di dire recentemente, altri professionisti che sono passati da qua, un nome fra tutti, Armando Caligaris, uno dei preparatori fisici, che utilizza moltissimo questo approccio e quindi anche in termini di performance lavora proprio considerando in via prioritaria l'aspetto psicologico-mentale, attentivo, con dei grandissimi risultati. Quindi stiamo andando in quella direzione e che questo sia il canale dove anche altri professionisti cominciano a capire che bisogna evolversi e bisogna andare avanti in direzioni che sono meno conosciute ma nei quali bisogna studiare, approcciare, fare motori. Assolutamente sì. Faccio un altro collegamento con l'osteopatia e scienze motorie. Quindi tutti questi aspetti riguardano il progetto, anche frequenze elettromagnetiche, stile di vita e quant'altro. Il progetto organizza la struttura, la struttura governa la funzione. Una persona ha un sintomo, va dall'osteopata. L'osteopata crea il suo trattamento osteopatico, per esempio lo manipola. Ma quanto è importante dopo l'atto motorio? Se la disfunzione, quindi il problema che ha creato il sintomo, è in fase acuta, quindi si è appena verificata, non c'è stato il tempo di automatizzare quella disfunzione, l'osteopata in quel caso sembra il mago. Risultati eclatanti. Io non mi muovevo, sono andato da lui, quattro manipolazioni, sono orinato, un mago, e si risolve il problema. Ma se il problema è cronico, è stato cronicizzato, quindi è presente da tanto tempo, a livello motorio mentale si è automatizzata la disfunzione. Quindi cosa succede? Che l'osteopata ti manipola, quindi tra virgolette va a eliminare quello che è il problema strutturale. Ma se io lì non faccio attività motoria, con la nuova funzione, che vado a reinformare, attraverso la quale vado a reinformare il cervello e automatizzare il nuovo gesto, nel tempo, la persona mi ritornerà con lo stesso problema. Quindi quando io sento, per esempio, oppure capita a me, persone che arrivino da me, dopo dieci mesi, dopo sei mesi, poi dopo quattro mesi, poi dopo tre mesi, con lo stesso problema, ho sbagliato io. Vuol dire che non ho capito quello che era il progetto iniziale, e molto probabilmente dal punto di vista motorio, non ho fatto fare quelle esperienze che facesse sì che le informazioni afferenti dalla periferia arrivassero a livello centrale per riprogrammare la nuova funzione. È fondamentale. Da un punto di vista osteopatico, dopo ogni manipolazione, io dovrei far fare attività motoria a quel distretto, possibilmente in catena chiusa, comunque in presenza di gravità, per reinformare il cervello. E se io prima non ho fatto le scienze motorie, come faccio a farlo? Quanto è importante? Moltissimo. È fondamentale. È fondamentale. Fondamentale. Allora, dato tantissime informazioni che ci hai detto, per quanto riguarda i mentori, per quanto riguarda la parte professionale, scientifica, allora tu hai anche, abbiamo detto, viaggiato molto, perché hai avuto questa esperienza in Francia, hai avuto questa lunga esperienza a Dubai. Qual è stata l'influenza, ora sei tornato veramente, sei fresco di queste esperienze di quattro anni e mezzo, qual è stata questa esperienza a Dubai e come l'hai integrata nel tuo percorso di vita? Allora, principalmente la grossa esperienza di Dubai è stata personale, umana. Ho deciso di uscire decisamente fuori dalla mia comfort zone. Quindi tendenzialmente uno, finché rimane nella comfort zone, bene o male, fa sempre le stesse cose, ottiene dei buoni risultati, meno risultati, decidi di metterla a testa fuori, io proprio mi sono buttato. Consapevole del fatto di poter andare incontro a delle difficoltà incredibili, e così è stato. Quindi ho fatto un'esperienza di vita molto forte, molto tra virgolette anche problematica, per le situazioni che ho vissuto, perché per esempio non conoscevo la lingua, perché sono andato a fare delle cose che non avevo mai fatto, pur attinenti al mio mestiere, relazionarmi con delle persone di un livello completamente diverso, con una cultura completamente diversa, con un'educazione completamente diversa. Ecco, l'esperienza che oggi mi porto è come se avessi vissuto vent'anni, in quattro anni, fortunatamente però essendo invecchiato solo di quattro anni. Quindi un'esperienza formativa incredibile, una capacità di gestione delle problematiche in maniera molto differente. La soluzione c'è sempre. Il fatto di imparare a gestire i momenti bui, perché in ogni carriera di professionista ci sono momenti bui, soprattutto se vai fuori dalla comfort zone. Guardiamo anche da un punto di vista menageriale le persone che più hanno avuto successo partendo. Quante volte sono cadute? Quante volte? Quindi il problema, il mio grosso insegnamento, il grosso insegnamento che la vita mi ha dato è che non è importante non sbagliare, anzi, quasi bisogna sbagliare, perché vuol dire che sei fuori dalla comfort zone. La cosa importante è la gestione dell'errore. Quindi l'errore che venga, perché se non viene l'errore vuol dire che stai facendo sempre le stesse cose. Però da lì poi devi imparare la gestione, cioè quell'errore ti deve insegnare determinate cose, ma prima di tutto dentro te, come persona fisica, come persona, come entità spirituale, mentale e fisica. Questa è la grossa esperienza che mi porto dopo questi quattro anni e mezzo di attività. E ci tengo a confrontarla con te, a proporla a te e a tutte le persone che ci ascolteranno, perché so, avendolo vissuto in prima persona, come chiunque ha fatto un percorso di crescita, che ci sono momenti duri. Non è tutto bello. Non è che chi arriva al successo ha avuto un'escalation così. La maggior parte di volte si cade, ci si rialza, si riparte, ma la cosa bella è che nel momento in cui ti sei rialzato e sei ripartito non hai più paura di cadere. Perché hai visto che anche se ti sei sbucciato di ginocchia, poi dopo tutto riparte con una consapevolezza maggiore, con una forza maggiore e con un focus maggiore. con più esperienza, quindi con maggior quantità di errori già fatti in passato. Una delle caratteristiche che ti ha portato a avere successo nel tuo lavoro, quindi oltre alla grande curiosità e alla dedizione allo studio, la parte scientifica e anche la parte gestionale, da un punto di vista veramente manageriale. Assolutamente sì. Quindi le scienze motorie non devono mai limitarsi a una parte scientifica, ma ci deve essere anche una parte di autogestione imprenditoriale, chiamiamola così. Perché tu oggi sei proprio un imprenditore di tutto quello che fai, sia come professionista, sia nei progetti che porti avanti. E questa è una caratteristica che, per quello che ho individuato, incontrando professionisti di grande successo, è quella caratteristica che poi porta alla realizzazione degli obiettivi. Concordo appieno. All'inizio, parlo della mia esperienza professionale, il tempo non è quantificato. Né da un punto di vista economico, né da un punto di vista... Cioè alla fine il tempo è l'unica cosa che non si può comprare. Il tempo quello è. Però all'inizio, quando si è giovani, si ha una gran voglia di fare. Ed è giusto che sia così. Si investe tantissimo tempo per qualsiasi cosa. Ed è importante, perché bisogna mettere, bisogna acquisire tutto di più. Poi più si va in là con gli anni, più si impara a focalizzare. Quindi a disperdere meno le energie e ad aumentare invece l'intensità dell'energia su un focus ben preciso. Io lo do al mondo del calcio, guarda la palla, guarda la palla, guarda la palla. Quindi essere focalizzato su quello che è l'obiettivo. E non bisogna spaventarsi se a 20 anni o 22 anni non sia ancora ben chiaro quello che è il proprio percorso. Perché ci sono delle persone che magari ci hanno chiaro già 16. Ci sono delle persone che cammin facendo, vivranno delle esperienze che daranno loro la chiarezza del loro focus. Quindi non bisogna viverlo con ansia, bisogna viverlo in maniera molto aperta. Non scendere a conclusioni. Lasciarsi aperte tutte le porte. Poi la strada la si troverà? Costanza. Quello sì. Dedizione, costanza. Alle volte anche un filo di incoscienza ci vuole. Calcolata. Ho un filo di incoscienza ci vuole perché bisogna uscire dalla comfort zone se si vuole crescere. Dove ti possono trovare professionisti e utenti? Allora, io adesso vivo ad Aosta, però lavoro ad Aosta, lavoro a Torino presso l'Infrop. Due settimane fa ho chiuso delle collaborazioni anche a Milano, quindi in diversi posti. Sicuramente attraverso il sito dell'Infrop, che è l'Istituto Nazionale Formazione e Ricerca, il nostro patico posturologia, ci sono tutti i miei dati per potermi contattare. Perfetto. René, è stato un grandissimo piacere parlare con te, ho tante cose in comune, sento argomenti che mi piacciono moltissimo e ti faccio le congratulazioni per tutta la tua carriera, per l'entusiasmo che trasmetti, per il sapere che porti anche in questa trasmissione. Sono sicuro che chi ci sta ascoltando ne trae grandissimo vantaggio. Quindi è stato veramente un piacere averti qua a Torino. Tutto mio, un onore anche. Grazie. e spero ci siano altri momenti per condividere ancora e parlare. Assolutamente sì. Ciao. Ciao. Assolutamente sì.